Mister Giorgini, una gara purtroppo da dimenticare quest'oggi, non si è mai riuscita a essere incisi in attacco gli unici episodi su cui si sarebbe potuto fare qualcosa, magari con quel calcio di rigore negato nel primo tempo e quella conclusione di falsa perla, però di gioco finalizzativo se ne vi sto parlando. No, è stato l'anicalcio, il castello di Fidardo ha meritato nettamente la vittoria, a parte il rigore quindi per me finisce oggi la vendura d'allenatore, arrivederci. La prima nuova del campionato, sconfitta meritata? Meritatissima, ci poteva essere anche il calcio di rigore per noi, però il castello di Fidardo non ha rubato niente per me finisce oggi il discorso allenatore. Qui si dimette? No, ma io non è che sono assurdo, lo sto facendo per sentire niente, però sinceramente io non me la sento, basta così.